Ogni giorno a Westyria Lane, le donne affrontano la loro parte di problemi. Come il ragazzo dei giornali che sbaglia mira. Un elettrodomestico che smette di funzionare. O una pagella con voti più bassi del previsto. E questi problemi di ogni giorno possono anche sembrare una questione di vita o di morte. L'ho detto al vostro fattorino, dieci volte almeno l'irrigazione del giardino parte alle sei di mattina in punto. Non so perché lo chiamate l'uomo delle riparazioni se non fa le riparazioni. E senti questa Carlos, l'insegnante di matematica, la sola cosa peggiore della sua aritmetica è il suo comportamento. Ma poi succede qualcosa di realmente terribile. E allora ci si aggrappa a ciò che è davvero importante. Prima che ci lasci per sempre.